L'acqua è un bene imprescindibile, inalienabile per l'uomo e per questo che sulla questione anche il Comune di Modica trebbe bene a comunicare ai suoi cittadini gli sviluppi dei piani d'ambito nelle ati della nostra ex provincia. E' quanto denuncia il Movimento 5 Stelle di Modica che punta il dito sul silenzio istituzionale di chissà, ma non informa i cittadini, ritenendolo grave e preoccupante. Se domani 18 novembre scadrà il termine della presentazione dei piani d'ambito e si paventerà il commissariamento, chi trarrà profitto con le solite storie della gestione mista e con le perdite di finanziamento? E' quanto si chiede il Movimento Pentastellato, che sottolinea come nei servizi idrici integrati tutte le acque, sia pubbliche che private, costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il Metap Movimento 5 Stelle Modica dice quindi fermamente no alle SPA che mirano solo a dividendi tra i soci e continuano a infliggere prezzi al metro cubo dell'acqua eccessivamente onerosi. Dopo le promesse di Crocetta, non vogliamo più bugie, scrivono i grillini modicani sull'acqua pubblica delle multinazionali quotate in borsa. Infatti costituisce un'ulteriore beffa il sapere che ricevono anche finanziamenti pubblici. Se dai vari referendum in Sicilia e non sul loro blu è emerso che la parola acqua equivale a democrazia, è ora che tutti i sindici si ricordino delle conferenze ONU del 2010 in cui si conferma che l'acqua pubblica è un sacrosanto diritto umano. Purtroppo le commissioni a Bruxelles favoriscono la sua privatizzazione e commercializzazione e quindi occorre mobilitarsi, se sarà necessario, competizioni e quant'altro occorrerà contro queste risoluzioni scellerate. L'acqua non ha un colore politico, non è né di destra né di sinistra, per cui a conferma del Forum Mondiale Sociale di Belem del gennaio del 2009 le amministrazioni dovranno applicare costi sostenibili per i cittadini. E' l'ora di dire basta ai soliti conguagli senza letture di contatori, applicando tariffe da SPA per risanare le casse bucate dei comuni. E' il momento di informare la cittadinanza e quindi previa convocazione delle varie conferenze di servizi provvedere laddove sarà necessario all'istituzione di giusti parametri, andando incontro alla popolazione con rateizzazioni delle bollette e ricezioni di modulari di schede di lettura dei contatori e con i rimborsi quando dovuti. Grazie a tutti.